covid crescono i casi regione da domani nuovo punto vaccini a montecchio due linee di navette altri nuovi servizi per il mercato del san decenzio ex consorzio fratelli d'italia chiede accertamenti sulle analisi del terreno ollus gulliver e progetto altro giro nuova altalena al parco di candelara una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale apriamo quest'edizione con gli aggiornamenti sanitari per quanto riguarda il covid perché rispetto alla giornata di ieri sono tornati a crescere i nuovi positivi sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati infatti testati 2423 tamponi 890 nel percorso nuove diagnosi di cui 121 nello screening con percorso antigenico e 1533 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati del 4,4 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 39 la maggior parte di questi 30 casi sono stati riscontrati nella provincia di ascoli piceno mentre in quella pesarese è stato registrato soltanto un nuovo positivo al covid nessun decesso è stato notificato nelle ultime 24 ore e carano ancora i ricoveri con un paziente in meno nei reparti non intensivi della struttura pesarese sono attualmente nove in tutta la regione le persone che si trovano in ospedale sul fronte ai vaccini invece a partire da domani dalle 15 alle 19 presso la casa della salute di montecchio sarà aperto un nuovo punto vaccinale che verrà gestito dai pediatri la cui referente la dottoressa mirca marangoni e rimarrà attivo tutti i mercoledì eccezione fatta per il 18 agosto si potrà accedere tramite prenotazione con i pediatri di libera scelta tramite il portare dedicato di poste italiane oppure anche in maniera diretta e quindi senza prenotazione fino all'esaurimento delle dosi disponibili il nuovo punto vaccinale sarà dedicato a tutti i cittadini ad iniziare dei ragazzi di età pari o superiore ai 12 anni in primo piano anche la cronaca perché grazie alle telecamere termiche vigilar connesse alla sala operativa dell'istituto di vigilanza privata è stato individuato l'autore di un furto avvenuto nel garage di un hotel situato presso il lungomare pesarese l'uomo di origine straniera di età compresa tra i 25 e i 30 anni si sarebbe introdotto nell'area privata per impossessarsi di una bicicletta elettrica di discreto valore poco dopo il furto gli addetti dell'istituto hanno rintracciato l'uomo in zona stazione e dopo aver recuperato e riconsegnato il mezzo al proprietario un cliente dell'hotel hanno denunciato il giovane ai carabinieri e ora cambiamo argomento perché il mercato cittadino del san decenzio si prepara ad accogliere nuovi servizi e proposte che sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa in comune prima fra tutte sul fronte trasporti l'attivazione di due nuove navette per raggiungere il san decenzio nei giorni del mercato vediamo due nuove linee di navette a partire da settembre per collegare i quartieri della città all'area del san decenzio il martedì mattina 4.000 shopper brandizzate made in pesaro e la proposta di organizzare eventi culinari e non solo sono queste le iniziative illustrate questa mattina dall'amministrazione comunale e da confesercenti pesaro urbino per potenziare il mercato cittadino del san decenzio e valorizzare i suoi circa 300 espositori dopo i difficili mesi della pandemia come sono state promosse altre vie o altre zone di pesaro era giusto promuovere il mercato di pesaro che è uno dei più grandi del centro italia e quindi in questo modo vogliamo regalare ai cittadini che si recano al mercato delle buste ecosostenibili sapendo che anche al mercato stesso ci sono degli agricoltori che lavorano col chilometro zero un'altra cosa che faremo come promozione del mercato sarà la navetta che partirà da settembre sempre tutto concordato con confesercenti che c'è stata vicina anche durante il lockdown abbiamo sempre lavorato insieme ci siamo confrontati abbiamo fatto dei tavoli di lavoro e devo dire che anche gli ambulanti sono stati molto attenti alle loro attività ma anche alla tutela dei cittadini le linee saranno due la principale sarà quella che raccoglierà i quartieri che comunque fanno più fatica ad arrivare al mercato quindi partiamo da villa san martino poi faremo tutto il giro di via del novecento tutto il quartiere della celletta che raccoglie anche tante persone quindi sono i quartieri più popolosi di pesaro e abbiamo analizzato un pochino i flussi del al mercato effettivamente quelle quei quartieri lì sono quelli che comunque hanno più difficoltà ad accedere per cui con l'avvento della navetta quella linea lì dovrebbe funzionare molto bene un'altra invece prenderà la via del mare diciamo quindi farà più i quartieri più vicini alla costa e anche quelli fino ad arrivare come capolinea lì è ovvio si tratterà innanzitutto di da settembre in poi un po di fare la tara no di queste di queste linee vedremo se funzionano quanto funzionano e se sarà necessaria qualche correzione nel senso di toccare altri quartieri e quello lo faremo volentieri vediamo vediamo come va sul fronte viabilità e nello specifico sul tema della realizzazione dei nuovi parcheggi attesi per l'area del mercato l'assessore belloni ha riferito che la scorsa settimana si è tenuto un nuovo incontro tra i tecnici comunali e quelli della ditta incaricata del progetto l'autorizzazione urbanistica è stata ritirata ed è atteso nell'arco di qualche settimana un cronoprogramma preciso dei lavori che potrebbero prendere via già il termine dell'estate nel frattempo però rimangono attivi gli stalli con disco orario presenti all'interno del san decenzio all'interno del proprio all'interno del mercato quindi non bisogna neanche fare un metro in più abbiamo più di 100 parcheggi assolutamente liberi gratuiti con disco orario di 90 minuti quindi un'ora e mezza si fa comodamente il giro il giro al mercato possiamo fare in tutta tranquillità serenità la nostra spesa e utilizziamolo viene veramente poco utilizzato ancora è sottutilizzato tra le novità e le iniziative in programma per il mercato san decenzio anche l'organizzazione di eventi abbiamo in mente di fare degli eventi culinari adesso sentiamo qualche azienda anche a chilometro zero che magari viene a sponsorizzare i suoi prodotti all'interno del mercato per qualche ora in modo che per far conoscere i propri prodotti e per attirare la gente perché comunque gli eventi culinari tirano sempre fanno venire sempre abbastanza gente quindi penso sia una cosa positiva sia per l'azienda che viene sia per l'indotto che del mercato prime settimane stive di mercato come sta andando dopo i mesi di pandemia è abbastanza bene anche questa mattina c'era abbastanza gente dopo il discorso se spendono non spendono quello purtroppo la crisi post pandemia ha colpito tutti però comunque la gente ha voglia di venire a fare un giro all'aria aperta a parlare fermarsi comunque riprendere la vita di prima cosa che la pandemia ha congelato attenzione puntata anche sull'organizzazione della fiera di san nicola attualmente confermata per settembre sì ci sarà la fiera di san nicola stiamo organizzando è chiaro che sperando che la situazione rimanga nelle condizioni che sono oggi e quindi ci sarà anche la fiera di san nicola e torniamo ora a parlare del cantiere dell'ex consorzio agrario in calata caio duilio perché dopo lo stop ai lavori dettato dalla procura della repubblica per la realizzazione dei due edifici contenenti 84 nuovi appartamenti il gruppo di fratelli d'italia ha portato in consiglio comunale un'interrogazione relativa al corretto svolgimento delle analisi sul terreno per garantire la sicurezza del cantiere ce ne parlano le prossime interviste il consigliere di fratelli d'italia daniele malandrino e il responsabile delle attività produttive di fratelli d'italia pesaro giuseppe ceccolini come si è potuto oppurare insomma anche dalla stampa noi preoccupati da tanti insomma dalle segnalazioni di tanti cittadini che gravi gravitano hanno gravitato intorno all'area portuale e in merito all'uso massiccio di prodotti chimici nel trattamento delle granaglie e anche dei silos dei magazzini dell'ex consorzio ci siamo sentiti in dovere di fare un'interrogazione chiedendo se sono state eseguite nell'area tutte le analisi chimico fisiche richieste per legge e dei carotaggi e c'è stato risposto cioè mi è stato risposto in questo caso che mi avrebbero fornito tutte le analisi dopo ma in realtà quello che mi è stato fornito dietro la mia richiesta di accesso agli atti sono delle analisi innanzitutto di superficie e poi del tutto inadeguate a quello che è richiesto dalla legge in questi casi ci sono state segnalate l'uso di fosfine per la disinfestazione dei magazzini composto che per lo meno quelle usate all'epoca perché sono circa 30 anni che mi sembra che sia stato dismesso il silo sia stati dismessi che non vengono più usati quelle che si usavano 30 anni fa hanno dei tempi di permanenza lunghissimi si parla fino a 100 anni logicamente se nel terreno erano presenti potete immaginare che in 30 anni piogge eccetera eccetera per percolamento possono essere scese anche fino alle falde e sicuramente sono andati in profondità quindi è bene fare dei carotaggi e non delle analisi di superficie come quelle che ci hanno fornito qui ci ritroviamo con delle analisi del 2013 che riguardano solo metalli pesanti e idrocarburi mentre l'arpa pretende un'analisi storica dei prodotti che venivano stipati nel luogo che sono tutt'altra cosa quindi una perizia del 2013 che riguarda metalli pesanti ed idrocarburi non garantisce quella sicurezza per tutto un altro genere di tipologie che sono considerate altalmente nocive noi siamo a favore di chi lavora quindi delle imprese che qua hanno investito già dei soldi però siamo anche per il rispetto della legge e la tutela soprattutto della salute dei cittadini quindi torneremo a chiedere le analisi specifiche sperando che siano state fatte che sia tutto posto e si è tenuto nella serata di ieri presso la pista polivalente di bottega un incontro pubblico organizzato dall'associazione diversamente per dire no al digestore a Vallefoglia tra le personalità presenti all'incontro anche il biologo appartenente al comitato scientifico di ISDE medici per l'ambiente Gianni Tamino le interviste sono di Andrea Sabatini da ottobre quando abbiamo saputo dai giornali della volontà da parte di Marche Multiservizi di costruire questo digestore anaerobico nella nostra area a Talacchio abbiamo cominciato ad informarci abbiamo inviato delle PEC per ottenere informazioni ma non siamo mai stati né ricevuti né abbiamo avuto risposte di anche un tipo abbiamo cominciato la nostra azione informativa con i cittadini abbiamo realizzato più seminari online quando c'era il periodo della pandemia del lockdown oggi si può fare fuori questa è la terza iniziativa che facciamo all'aperto abbiamo raccolto oltre 5.000 firme in questo periodo che abbiamo consegnato sia in comune che in provincia dimostrando che la gente è preoccupata ed è tanta la gente che in questo momento sta manifestando la propria opposizione non abbiamo alcun tipo di risposta e nessuna presa di posizione da parte dei nostri amministratori anche se al posto delle parole i fatti dimostrano che stanno creando i presupposti affinché questo possa avvenire con delle varianti all'interno del piano regolatore come l'ultima che hanno approvato nel Consiglio Comunale della fine di maggio dove prevedono la possibilità non più solo di restauri conservativi per edifici e casolari e casualmente anche i due che insistono nell'area prevista per questa costruzione ma anche ristrutturazione edilizie quindi significa demolizione, ricostruzione e delocalizzazione quindi direi che non prendono posizione in pubblico ma compiono atti che sono una chiara manifestazione di volontà così come hanno fatto durante tutti questi otto mesi sponsorizzando tutte le volte che hanno potuto sia il comune di Vallefoglia che il comune di Tavuglia la proponente Green Factory creando i presupposti affinché potesse continuamente veicolare il suo messaggio senza alcun tipo di contraddittorio e soprattutto senza che la gente potesse partecipare liberamente Anzitutto devo dire che la logica dei biodigestori sia per produrre biogas che per produrre biometano sono una modalità non valida dal punto di vista ecologico della sostenibilità perché comunque creano impatti ambientali la logica di bruciare poi il biometano è come bruciare il metano quindi non risolviamo il problema che a monte se vogliamo affrontare le questioni dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici è di non produrre nuove combustioni quindi tutto ciò che brucia e infatti questa non è economia circolare che che ne dicano i promotori perché l'economia circolare lo dice l'Unione Europea è quando si ricicla la materia ma non si produce energia da bruciare cioè biocarburanti o altri tipi di materiali che richiedono una combustione per produrre energia quindi l'obiettivo primario deve essere quello di recuperare la materia quindi piccoli impianti aerobici cioè con l'ossigeno per avere un compost di qualità è l'obiettivo primario a livello europeo e a livello anche di buon senso e di chiunque si occupa di problemi ambientali, ecologici e agricoli da domani e fino al prossimo 22 luglio le famiglie con ISE inferiore ai 12.000 euro 16.000 se il nucleo è composto da 5 o più persone potranno presentare la richiesta per ricevere agevolazioni per il pagamento sulla tassa dei rifiuti sarà possibile inviare la domanda con allegato ISE corrente ordinario via PEC all'indirizzo comune.pesero.emarche.it via mail all'indirizzo protocollo chiocciolacomune.pesero.pu.it con raccomandata allo comune di Pesero piazza del popolo numero 1 oppure su appuntamento consegnandolo allo sportello in forma ai servizi gli interessati titolari di un'utenza Tari domestica residente nel comune di Pesero dovranno essere in regola con i versamenti della Tari In vacanza a Pesero da 50 anni Michele Epolet De Marc, 78 e 76 anni di Bruxelles turisti fedeli del nostro territorio che ogni estate alloggiano per 6 settimane nelle strutture di Viale Trieste hanno ricevuto questa mattina la targa di riconoscimento come graditissimi ospiti della città dal vice sindaco e assessore al turismo Daniele Vimini arte, danza, inclusione sociale e sostenibilità ambientale sono questi i grandi temi al centro di Alter Art, il festival internazionale di teatro e danza contemporanei in programma a Pergola dall'8 all'11 luglio quattro giorni di laboratori, conferenze, performance e mostre che vedranno protagonisti, figure di fama internazionale tra docenti, coreografi, danzatori e ricercatori sempre sul tema degli eventi ci spostiamo a Vallefoglia perché domani alle ore 21 in piazza Europa a Morciola nell'ambito delle attività turistiche e culturali programmate dal comune per l'anno in corso prenderà il via la rassegna denominata Cinema sotto le stelle che caratterizzerà tutti i mercoledì del mese di luglio la prima proiezione in programma riguarda un cartone animato dedicato principalmente ai bambini dal titolo app proposto dall'associazione Cineforum Cinema Bessai e da ieri pomeriggio il parco di Candelara è stato dotato di un nuovo gioco atteso dai più piccoli del quartiere grazie alla donazione della Ollus Gulliver e al progetto Altro Giro portato avanti insieme all'amministrazione comunale prosegue l'iniziativa di economia circolare Altro Giro promossa dalla Ollus Gulliver e dall'amministrazione comunale e grazie alla quale da qualche settimana nuovi giochi vengono collocati nei parchi e nelle aree verdi della città ieri è stata la volta del parco di Candelara nel quale è stata posizionata una nuova altalena terza donazione dall'inizio del progetto la Gulliver è una realtà virtuosa del nostro territorio grazie ai tanti cittadini pesaresi che hanno deciso di collaborare di donare i propri elettrodomestici usati ma in buono stato piuttosto che un vestito e grazie ai tanti volontari che operano nei negozi perché ricordiamo i negozi sono in Piazza Redi, in Via Rossi e in Via Toscana è una realtà che sta collaborando non solo col progetto di Altro Giro ma sono tante le iniziative che stanno mettendo in campo un altro grazie alla Gulliver per il terzo gioco che ha voluto donare alla città la prossima settimana di nuovo ringrazieremo per la quarta volta la Gulliver che ci donerà uno scivolo per il quartiere di Villa Fastigi un progetto sano che fa bene, fa bene ai bambini e fa bene anche ai grandi grazie Onlus Gulliver In attesa della cinquantesima edizione del Festival del Gallo d'Oro rimandata al prossimo anno viste le normative anti-covid in vigore anche in questa stagione estiva la Proloco di Petriano ha deciso di organizzare comunque una serata dedicata ai cantanti ci anticipa qualcosa dell'evento in programma per venerdì sera in cui saranno presenti anche le telecamere di Rossini TV la presidente della Proloco di Petriano, Barbara Selva La manifestazione si chiama Aspettando il Gallo d'Oro proprio perché è un'attesa avrà luogo venerdì 9 luglio nella parte scoperta del centro civico in piazza Cavour a Gallo di Petriano abbiamo pensato a questa serata che fa un po' da ponte per quello che c'è oggi e quello che sarà luglio prossimo quando festeggeremo realmente il nostro cinquantesimo festival in modo molto più decoroso ovviamente questa serata è una serata libera per il cantante non consiste, cioè non esiste nessuna sorta di iscrizione il cantante partecipa ma comunque verrà ascoltato da una giuria d'eccezione che saranno giornalisti in giuria c'è anche il maestro Stefano Venturi Virginio il cantante vincitore di Amici di qualche edizione fa e quindi avranno anche consigli e ne uscirà un premio che verrà dato al cantante da parte di questa giuria la serata sarà anche intercalata da un po' di spettacolo ovviamente come le nostre farfalline apriranno la serata perché sono ormai una colonna portante del festival e ci sarà anche un ospite che è Antonio Mezzancella che anche lui viene da Tussiche Valles e quindi è anche molto conosciuto un ottimo artista durante la serata l'esibizione dei cantanti sarà intercalata giustamente da questi piccoli spettacoli tutto questo per arrivare al prossimo anno dove come dicevo prima il festeggiamento sarà più importante resta di fatto che durante l'inverno realizzeremo una masterclass proprio con Virginio e tutti i cantanti che ad oggi si presenteranno comunque avranno una corsia preferenziale per questo evento aspettiamo ancora iscrizioni iscrizioni nel senso che ogni cantante che si reputa valido può fare comunicazione come informazioni ci sono sui nostri canali social per poter partecipare di conseguenza avere poi anche una corsia preferenziale per quanto riguarda la masterclass come dicevo la serata avrà inizio alle ore 21 come dicevo chiunque si voglia iscrivere lo può ancora fare visto che non c'è un vero e proprio una vera e propria gara e quindi lo può ancora fare iscrivendosi e chiamando contattando le persone che sono sui social per il pubblico ovviamente rispettando le normative di sicurezza vigenti ad oggi si possono prenotare ci saranno delle postazioni distanziate ovviamente chi vuole lo può fare sempre tramite i contatti che ci sono sui social facebook e instagram nella pagina dedicata ad aspettando il gallo d'oro ci saranno i nominativi di Giulia e di Cristian dove possono contattarli e prenotarsi e ci spostiamo ora a Fano perché tornano in presenza le premiazioni dell'oro d'Italia e l'oro del Mediterraneo entrambi organizzati da Olea oltre 650 gli oli inviati da più di 350 tra frantoi e aziende agricole con una qualità quest'anno davvero eccellente il servizio è di Simone Celli dopo lo stop dovuto al covid l'atteso ritorno con il galà dell'olio 2021 in programma sabato 10 luglio la Pinacoteca San Domenico di Fano si riaccendono i riflettori sui migliori oli d'Italia e del Mediterraneo un evento che vanta anche il patrocinio e il contributo del comune di Fano e che sarà soprattutto l'occasione per consegnare alcuni tra i più ambiti premi oleari internazionali ci ritroviamo dopo due anni di stasi se vogliamo per questioni covid a riprendere in presenza la premiazione in questo caso possiamo fare solo le premiazioni dei concorsi internazionali l'oro d'Italia e l'oro del Mediterraneo organizzati da Olea provenienti da tutta Italia inviati da 350 aziende da aziende italiane, croate, spagnole da tutto il Mediterraneo quindi è una grossa soddisfazione che si conclude con la premiazione degli oli premiati quindi la presenza di aziende provenienti da tutte queste regioni e dall'estero a ricevere questi premi che Olea assegnerà e consegnerà in questa giornata dove riprendiamo veramente in pieno la nostra attività con l'augurio che l'anno prossimo possa essere ancora migliore con tante altre iniziative che avevamo in cantiere ma che non abbiamo potuto svolgere nonostante la possibilità ridotta di fare attività quest'anno abbiamo un nutrito elenco di produttori che hanno aderito alla premiazione e naturalmente continuiamo con le attività collaterali di tipo il premio Antonio Ricci in memoria del nostro vice presidente ormai alla sua quarta edizione e purtroppo per la prima volta quest'anno il premio nazionale Ettore Franca Ettore è stato il nostro presidente storico sarà il nostro presidente per sempre e in suo onore, in sua memoria da quest'anno istituiremo anche questo premio ovviamente continueremo con la confezione dell'olio ambasciatore che è il risultato del blend di tutti gli oli presentati a concorso che a nome dei produttori verrà distribuito alle autorità intervenute e consegneremo la simbolica bottiglia dell'oro della solidarietà alla mensa Padre Pio a cui vanno tutti gli oli presentati a concorso ovviamente a nome di tutti i produttori che hanno partecipato Sì, un evento di grande importanza per la città di Fanno che rappresenta uno dei prodotti enogastronomici più importanti del nostro territorio parliamo dell'olio DOP Cartoceto ma in considerazione della presenza di questo fantastico olio un concorso che vuole valorizzare tutti gli oli italiani nel luogo dell'olio quindi la città di Fanno, la zona di Cartoceto il territorio delle vallate del Metauro e del Cesano e quindi la presenza qua di tanti produttori in questo weekend e la presenza di tanti oli stanno a suggellare proprio dell'importanza di questo territorio su questo prodotto enogastronomico che come recita insomma l'evento è l'oro d'Italia, l'oro delle marche In cantiere per il 2022 una vera e propria fiera dell'olio con il ritorno di Fanno Extra nel frattempo c'è comunque di che sorridere la produzione più recente sembra infatti essere di un livello eccelso Importantissimo e poi un altro fatto ed è che la gioia che noi manifestiamo sta nell'aumento medio della qualità degli oli presentati a concorso oltre che della loro quantità e questo un po' ci ripaga dei sacrifici fatti perché noi abbiamo l'ambizione di dire di averne il tempo contribuito a stimolare il miglioramento della qualità di questo prodotto che può permettere a chi riesce a capirne l'importanza di avere tutti i giorni a tavola bontà e salute è stata un'annata straordinaria perché veramente gli oli erano veramente eccezionali forse è stata una delle campagne olivicole dove abbiamo riscontrato la più alta qualità degli oli presentati tra questi ci sono anche molti marchigiani che hanno partecipato ai nostri concorsi e si sono piazzati i primissimi posti tenendo alto anche loro il nome delle marche e questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV questa sera alle 21.15 potrete assistere allo speciale che vi racconta l'inaugurazione della nuova filiale in via San Francesco di Riviera Banca questa sera quindi in onda alle 21.15 su Rossini TV e poi l'informazione che torna puntuale domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV